Ecco, vedete quanta gente si è già incamminata, ora seguite le frezze e mi raccomando andate a visitare il borgo Siamo alla partenza della storia panoramica anche se gli asetti ormai sono partiti quasi tutti Sanno non avete fretta, una passeggiata che dovete fare voi Dove vanno? Ecco la partenza Tranquillamente Ecco, ufficialmente ha preso via anche la 35esima edizione della storia panoramica E già sono partiti praticamente tutti, ve li facciamo vedere Sono via va incredibile su queste colline, un sacco di gente ma è già distribuita in uno per posto Oltre 3.000 persone sono presenti qui questa mattina a Ficedo di Polpenazze Anche se la mattinata è un po' così così Ma forse è l'ideale per chi corre naturalmente tra meno di mezz'ora il via ufficiale La camminata ecco, da quella parte, vedete il cameraman che vi sta riprendendo La non competitiva, la camminata per chi deve ancora prendere il via da questa parte Non c'è classifica, non c'è niente, potete partire e arrivare quando volete La camminata è un po' così Qualcuno che deve rifare qualche ritardatario Ma comunque la partenza è libera da questa parte Potete incamminare